E' il Giro di Boa E' la terza tappa dei trofei MP Ex House MES ed è dedicata al compianto Pippo Stanga Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano A Riccardo Paletti è il momento della verità Una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire Ma adesso non è il momento di parlare Bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore E' un piacere incontrare Lorenzo Vock Sappiamo che è un po' restio a parlare, ha come sostegno il suo team manager Passiamo la parola Beh, la qualifica è andata bene, siamo in prima fila Adesso c'è qualifica a due, però siamo fiduciosi Mi uscirà una bella gara qua a Varano, ci siamo sempre trovati bene, per cui speriamo Poi come dicevo prima, hai un grande sostegno Grazie, diciamo che lui è un grande, è un toro Ragazzi è un toro questo ragazzo Oggi ci farà vedere delle belle come sempre, è già lì davanti Ha fatto un ottimo tempo, sempre abbiamo visto con qualche disturbo durante il giro buono Vedremo le Q2 e la gara perché ci fa sempre sognare Ogni gara ci fa stare sempre lì, così sugli spalti Proprio cuore in gola, cuore in gola, sempre un grande combattente Possiamo migliorare, dai Sì, possiamo sempre migliorare Ti aspettiamo a fine gara A dopo È sempre un piacere incontrare e parlare con Maurizio Morselli Questa volta sappiamo che ha delle novità da raccontarci, giusto Maurizio? Allora, intanto torniamo alla gara di Cremona che abbiamo messo a posto le cose E dopo torneremo là a fare dei test perché mi è rimasto qua E dunque la novità è che il team si allarga Stiamo appoggiando il ragazzino qua, Andrea Zagoner Che secondo me è abbastanza promettente Ci corro insieme ma ci ho corso anche prima E ho visto che sta maturando abbastanza Secondo i miei punti di vista di tutti i piloti che ho visto Senza togliere niente agli altri Merita un certo appoggio sia tecnico E anche un po' economico Il fatto che sia sostenuto da te è già un gran vantaggio soprattutto dal punto di vista professionale Beh intanto se lui ha voglia ci proviamo Poi dopo naturalmente Adesso partiamo così con quello che abbiamo stabilito Però lui può correre con più soltezza, può provare di più Insomma alla fine la famiglia cresce perché devo pensare anche al domani E dopo vediamo Io cerco di correre finché posso Però il futuro è lui Lui è oggi, io ero ieri Sono anche oggi ma sono più ieri E comunque niente Adesso domani vediamo di far bene qua con la nostra E niente E poi ci buttiamo a Tremona 5 per finire quello che non abbiamo fatto Ce l'ho sullo stomaco Noi ti conosciamo e lo sappiamo Sai capita nella vita Però quattro cose in un colpo E in una pista che non l'hai mai visto Guarda è colmo proprio Comunque adesso abbiamo questa avventurina qui Ci diamo una mano Dimmi il numero, dimmi quel famoso numero, siamo a? Ah no, eh beh, 501 Avevamo sentitelo dire, sì Beh, cioè è anche bello ragazzi Io ho anche fatto tante, 250, 500 Ho fatto tutti i circuiti d'Europa Sono andato a punti, ho vinto il mio titolo Ho vinto da manager, ho vinto più Non devo chiedere più niente Cerco di migliorare me stesso qua dentro Questi giovani vanno tutti forte E hanno anche delle belle moto E ti dico che il trofeo Di quelli che ho visto in giro È un po' più professionale Possono migliorare Perché ci potiamo migliorare tutti Però anche l'intervento Di qualche video Così i piloti dovrebbero capirlo di farlo Perché un domani lo cercheranno Ma non sono queste 100 euro, 150 Sarebbe un investimento Io a mio tempo lo feci I risultati sono ancora qua Poi chi la capisce la capisce E chi non la vuole capire non la capisce Questa è la vita Maurizio Morselli Un grande maestro Ciao ragazzi Noi siamo abituati a incontrare William Benedetto Con un entusiasmo Straordinario Diciamo un po' fuori dalla normalità Il problema è che sappiamo Che c'è qualcosa Che proprio e proprio Non gli è piaciuto Ma Sentiamolo un po' da lui Cosa è successo? Ieri sera abbiamo sofferto Contro l'Austria E quindi È stata una notte Veramente difficile Perché pensavo di andare a dormire prima È finita i supplementari E mi ha tolto via Orari di sonno Però del resto Dai la giornata di oggi bene Poche ombrelline Ma dai Noi ci siamo Siamo pronti E siamo carichi Per affrontare questa giornata di gare Ma la situazione è buona Il tempo è buono E Volevo intervenire Dicendo che Non è propriamente concentrato Sulle moto Diciamo In senso stretto Ma Va bene così Ma sì Sono qui per divertirmi E quindi La moto va bene Io sono concentrato Un po' su tutti i punti di vista A parte ieri Che Boh Non trovo più Mi occhiali da sole Quindi sto perdendo Quel margine di miglioramento Per andare in moto Questa è quella cosa A cui facevo ricarimento All'inizio Ma volevo che forse tu A dirlo Purtroppo è così Sai quando ti mancano certe cose Non è la stessa giornata perfetta Ma Bisogna andare avanti E affrontare i problemi Della vita Insomma William è così E noi lo vogliamo così Ma poi per finire La gag Il mio meccanico oggi Prende il motorino Va Lo abbandona al bar E si dimentica Che aveva preso il motorino Panico Willy Ti hanno rubato il motorino Ti hanno rubato il motorino E alla fine era Era il bar Ma si può Che team eh Vi vogliamo bene Ciao Ciao Terzo round 659 Per riuscire a fare qualche calcolo Dove apre la quinta fila 35527 Soprattutto Maurizio Morselli Con la sua numero 7 Pronto ad impennare Sgasare A dare tanta Tanta soddisfazione Gas in quel Trofeo del 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 Sarà una gara All'attacco Speriamo La qualifica Non è andata Come volevamo Speriamo di migliorare In gara Fare una buona partenza E stare con quelli davanti In bocca al lupo Marco Grazie Eccoci qua con William William sei pronto Per questa gara Che tattica userai Per diminuire il traguardo Ma cercherò di finirla In meno tempo possibile Perché questo caldo Mi sta un po' ammazzando E quindi il mio obiettivo Poi è andarmi a buttare Nel fiume Per rinfrescarmi un po' Un bacione ragazzi Dove andremo tutti dopo Vai In bocca al lupo William Grazie Ciao ciao Eccoci qua con Maurizio Morselli Maurizio Sei carico Sei pronto per questa gara? Sì sì Dobbiamo recuperare Un po' di posizioni Poi abbiamo lavorato Solo il secondo turno Va bene Un grandissimo In bocca al lupo Grazie a te Benvenuti Terzo appuntamento In quel di Varano Qui a mio fianco Sempre super Andrea Tomio Ciao ragazzi Ciao Gianluca E allora Siamo pronti per la Race Attack 600 Con la pole position Di Andrea Liberini Luca Coletto Al suo fianco E Vocca A chiudere la prima fila Seconda fila Con Campanini Rolando Bettella Como Cappelli Zagoner Benetez Pecolizzi Taciti De Padova Speretta Regonesi Sto facendo tutto Dunfiato Di Pasquali Bocellari Bertona Bassi Coppoli Morselli Soncim Brando Che gara ci aspettiamo? Una gara molto calda Abbiamo visto un weekend Davvero davvero caldo E come sempre la Race Attack Molti molti piloti Agguerriti Sono lì pronti Stanno aspettando Con la bandiera rossa Fino al momento Della bandiera verde Intanto si sta Schierando la macchina La safety car Sì Anche perché Andrea Sappiamo che Liberini È un po' Il faro di questa classe Leader Le ha praticamente vinte tutte E a Varano Sappiamo avere una buona Confidenza col circuito Intanto vediamo Si accendono i semafori Si spengono via Partiti Vediamo come parte Bettella Mi sembra bene Voc alle spalle Ha avuto uno spunto Non interessantissimo Liberini Vediamo Liberini Secondo Dritto Che dritto Non so Forse proprio Coletto Che ha fatto il dritto Infatti lo viso a partire Come un razzo Mi sa che non ha poi Ben calcolato Evidentemente La frenata Quello che poteva essere La frenata Mentre Liberini Prova subito Ad innavolarsi Alle sue spalle Vedo che c'è Voc Poi si collezionano E si Si mettono anche Come una partenza Dove l'importante Che non ci sia mai Nessuna caduta Voc Tiene la seconda posizione E cerca anche Di Di aggrapparci Sì Mentre Liberini Sta provando Già a forzare Il terreno Ha già preso Margine Fin dalle prime curve Liberini Ha molta confidenza Qua a Varano Ma ha dimostrato anche Negli altri circuiti Di andare Molto bene Nel frattempo qua Vediamo In azione On board Qualche sorpasso E intanto La regia Ci fa vedere Questa bellissima Inquadratura Dall'alto Che riprende Proprio il ferro di cavallo E La percorrenza Per l'ultima curva Che mette Sui rettirini Eh sì Sono otto giri Andrea Mentre Voc È stato scavalcato Se non ho visto male Prima dell'ingresso finale Sono otto giri Di percorrenza Da Bettella Sì è proprio così Liberini Bettella Voc Como Cappelli Campagnini Zagoner Rolando Coletto Buccellari Andre È stato coletto Che ha fatto quel dritto Era partito bene Ma non ha evidentemente Pensato Per Sì sì Ha calcolato Un po' male Le distanze È arrivato Un po' troppo veloce Ha fatto bene Perché piuttosto che Buttarsi dentro E magari tirare intera C'è lotta però Nelle retrovie Si sta combattendo parecchio Io intanto voglio un attimo Focalizzarmi anche sui tempi Della qualifica Andrea anche perché Liberini ha girato Un secondo e tre Più forte di Coletto Ad esempio che partiva Dalla seconda posizione Al di là dell'errore Un secondo e tre Più forte di Voc Ma mi sembra che stia imprimendo Comunque già Dall'inizio Un ritmo serrato Fortissimo Forse è nato Sì sì Beh Sta replicando un po' Quello che ha fatto Diciamo nella qualifica Ovvero Aveva un buon margine E lo sta facendo vedere Poi Come sempre qua Sono gare davvero sprint È appena partita E stanno già per entrare Nel terzo giro Quindi Sono solamente otto giri È molto molto rapido Siamo presenti a un terzo Della gara Tra poco ma La percorrenza È veramente importante Però iniziamo anche ad avere Qualche rilevamento Cronometri Intanto Liberini Sta facendo il solco 1-9-7 Liberini 1-11 Bettella 1-11-2 Voc C'è una distanza Abissale Di un secondo e tre 1-9-7 È un bel tempo Assolutamente Si avvicina Al tempo della qualifica Corrono però E corre soprattutto Andrea Liberini Che dovesse Bissare un po' Il successo Che c'era stato Nel primo appuntamento A Varano E poi replicare Quello del Cremona Circuit Triplicandolo qui Veramente metterebbe Un solco Che sarebbe Difficilissimo Ad andare A ricucire Per i piloti Che inseguono Mentre il solco Lo sta mettendo anche in pista Assolutamente sì Evidentemente Ha più feeling Ha più feeling Con la moto Si vede Perché comunque Non è semplicemente In una prima posizione Lottata Ma è lì Bello tranquillo Sta facendo la sua gara Sta spingendo forte Chi lotta sono dietro Andrea però Chi lotta sono dietro Bettella Voc Che si sta provando Ad inserire nel gruppetto Como Che sta cercando Di sfruttare Forse questa lotta Bettella Voc Per rientrare Nel giro Esatto Esatto Loro si stanno Divertendo Forse un po' di più Di Liberini Anche se secondo me Liberini Sotto il casco Si sta iniziando A godere un pochettino Perché comunque si entra 1-9-7 Di nuovo Liberini Andre Ma dietro È una battaglia Incredibile Tra poco Io Ti faccio una previsione Non è che rientrano dentro Anche Como e Cappelli In questa lotta Per il secondo posto Perché mi sembra che Un po' sbagliato Caduta Caduta Non ci voleva Peccato Una caduta Nelle retrovie Da parte di Cappelli E come ha perso Per alcune posizioni In questa In questa manovra Cappelli è caduto Scivolato Poco Poco dopo Il terzo giro Però adesso Iniziamo anche a vedere un po' Ci dispiace evidentemente Per Cappelli Ma dobbiamo Anche Andare un paro Fuori di cronaca Con Liberini Che sta volando Letteralmente E attenzione Andre che qua Sta mettendo Un secondo e due A giro Assolutamente Sì sì Il margine È veramente tanto Come è rimasto un po' Intrappolato Nella cosa Ha perso qualche posizione Era lì in bagarre Adesso ce lo segnalano Ancora come quarto Ma probabilmente Col prossimo passaggio Sul rettifilo Potrebbe essere cambiata Potrebbe essere caduto Cappelli Non penso che Campanini Sia riuscito Così a ricucire Però andiamo a vedere adesso Anche perché taglia L'altra chicane Prima del rettilineo Sempre Andrea Liberini Vediamo come chiude Questo giro 1-9-8 Straordinario Liberini Sta spingendo come un pazzo Vettella Vok Campanini Che ha scavalcato Como Che ha avuto Quell'errorino Gli ha causato Diciamo la perdita Della posizione Al di là poi Della caduta Sì Di ripetaglio È caduto qualcuno davanti È caduto Campanini Penso Altra caduta Peccato Anche Campanini Nella Il quarto giro Che si stava iniziando Perdonami Il quinto giro Più che altro Che si stava iniziando Cade anche Campanini Perdiamo un altro Componente importante Della gara E allora sarà Liberini Bettella Vok Como E occhio a Coletto Perché sta cercando Di recuperare anche lui Disperatamente posizioni E punti importanti Per il Per poi per la classifica finale Intanto andiamo a vedere Con Maurizio Morselli Come affronta la curva Impegnato con Regonesi E Specolizzi Morselli Sta andando a suo modo Ma sta andando bene Morselli Effettivamente sì Perché Comunque sta lottando Non Non è in solitaria Sta provando Comunque ha Sta facendo una gara Che sicuramente È più divertente Delle precedenti Perché comunque Quando hai un po' di bagarre Stai facendo qualcosa Ti stai sicuramente divertendo Nel frattempo Lui sì Si sta divertendo Ma a suo modo Esatto Mancheranno un paio Di giri Alzato tantissimo Andre Uno Undici e tre Quali Berini Segno che O qualcuno gli ha fatto segno Vai un po' più piano Tranquillo Mentre andiamo Sì forse ha talmente Tanto margine Sì va qui Andre Zagoner Benedetto Con Benedetto Alle spalle di Zagoner Che secondo me Proverà fino alla fine A dargli del filo Da torcere Qui siamo con Como Esatto Scavalcato da Coletto Occhio Perché mi sembra A vista che Bettella si è allontanato E sta diventando Super sfida Vok Coletto E chissà che Como non riesca A rientrare Può essere Può essere Anche perché Bettella ha fatto Undici e sette Liberini Dieci e nove Vok 14 e due Andre Altino Un dritto Può essere Sì forse Sì perché Doppiati non ne vedo No ancora no Ancora no Poi è talmente breve Come gara Che è difficile Trovare doppiati Nella race attack Però occhio Perché vedevo alle spalle Forse Coletto Minacciosissimo Su Vok Liberini Intanto Che sta Vabbè Lui ha salutato Già da tempo La compagnia Como non riesce Ad accodarsi Vok è sempre davanti A Coletto Ma dovrà sudarsela Questa terza piazza Caro mio Andrea Tomio Eh sì È un po' È un po' Tardato Como se Magari con qualche giro In più Ce l'avrebbe fatta Probabilmente si riusciva Ad attaccare Al gruppettino Lì davanti Che poi è il gruppettino Del podio Quindi Punti Punti importanti Sarebbero stati Probabilmente non per la vittoria Poi finale Anche perché Si accinge Andrea Liberini Ad affrontare L'ultimo giro Tranquillo Paccato in solitaria 11 e 4 Ultimo giro 8 su 8 Per quanto riguarda La gara Con Una Inquadratura Su Maurizio Morselli Che si trova In diciassettesima posizione Che ha staccato Copponi Con un paio di giri Assestando Dei colpi importanti Noi di solito Non indugiamo Molto Su chi Sta alle spalle Ma Morselli È andato in 14 e 3 Andre È andato quasi più veloce Del giro di Vok Precedente Si anche perché Morselli Si vediamo che In qualifica Aveva fatto un 13 e 5 Sta girando un secondino Più lento Rispetto alla qualifica Che comunque Dunque è un buon passo È un buon passo Anche perché Vedo che tutti Un pochettino Hanno un po' Alzato il ritmo Quindi ci sta Ci sta Ci sta Esatto Chi l'ha alzato sicuramente Como che ha capito Di non avere più chance Di riuscire a rientrare Nel gruppettino Ha mollato di schianto Como Qui si provava a fare Un temponissimo Altissimo Perché ha perso tanto Andiamo a goderci tanto Super Andrea Liberini Che sta affrontando L'ultima curva Prima di arrivare Alla vittoria Finale Vince Andrea Liberini Gara 1 Della Race Attack 600 Grande Polman Grande vittoria Per Liberini Alle spalle Arriva anche Bettella Con Vok Che lo aveva Praticamente Quasi preso Andre Coletto Alle spalle Como Rolando Benedetto Taciti Bocellari Andre Chiosa Velocissima Perché poi Dobbiamo accingerci A vivere Gara 2 Esatto Vittoria in solitaria Per Liberini Sì assolutamente Sì è stato bravo Grande vittoria Grande vittoria Per Liberini Liberini Bettella Vok Ci vediamo Gara 2 A dopo